Oggi inizia la campagna elettorale di Unione Popolare. Partiamo da Civitavecchia, dalla Frasca, partiamo dal Museo del Mare che è bloccato in un'area del Forte Michelangelo perché noi vogliamo che Civitavecchia si liberi completamente da tutte le sue servitù e ritorni a splendere come era una volta. È proprio una cosa importante aprire la campagna elettorale sul mare perché Civitavecchia è una città marinara e ha dato alla città un sacco di lavoro e quindi bisogna comunque combattere per avere tutte quelle cose che noi abbiamo fatto in questi anni come Porto Benecomune e uscire fuori dalla servitù dei combustibili fossili. Quindi la campagna elettorale verterà su queste parole d'ordine di fare di Civitavecchia un centro di lavoro pulito per lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti una città più sana e più pulita. Io sono il responsabile del centro archeologico, ringrazio gli amici di Unione Popolare per aver preso a cuore questo progetto che da tre anni è realizzato nella città però non ha ancora preso il via. Praticamente un museo del mare che parla della storia vera, marinara, da Traiano in poi, già fatto, realizzato ma che non riesce proprio a decollare. Quindi mi fa piacere che c'è una forza politica che abbia preso a cuore veramente a livello di portarlo in campagna elettorale un progetto di questo tipo. Mi rendo conto che un museo del mare può sembrare niente ma può realizzare invece tante possibilità per i giovani può creare vocazioni in merito anche alla cultura che c'è, alla tradizione che implicitamente Roma detiene dall'antica Roma detiene il mare. Dopo quello che hanno detto i miei compagni io vorrei fare semplicemente un appello al voto diciamo che noi siamo l'unica vera novità di questa campagna elettorale abbiamo visto già i fallimenti sia Civile Vecchia che nel resto d'Italia di tutte le altre forze politiche il 5 Stelle che finge di essere di sinistra, il PD che è una vita che finge di essere di sinistra le destre che ovviamente sono il nostro posto storico e noi rivendichiamo con orgoglio la volontà di rappresentare gli sfruttati, gli ultimi, i lavoratori disoccupati, la sanità pubblica, la scuola pubblica e non per ultimo con orgoglio che alla Frasca abbiamo portato la bandiera della pace cosa che sappiamo che sta molto a cuore a tutti gli italiani è che invece tutte le altre forze politiche si vergognano anche di nominarla. Secondo noi bisogna ripartire da questo. la pace in tutta Europa può riportare ad un futuro gioioso e glorioso e che possa poi portare alla transizione ecologica ma se non si parte da quello non abbiamo nessun futuro. Io mi sono messo volentieri a disposizione alla mia prima volta che faccio qualcosa di così attivo ma per la pace e poi popolare, più popolare di una mia intucciata mi sembra che non ci poteva essere niente di meglio qui alla Frasca.